Buongiorno e benvenuti alla Zuppa di Porro di questa mattina, 16 marzo, venerdì, vi ricordo che questa sera c'è Matrix su canale 5 alle 23.30 e che sul sito nicolaporro.it tanti materiali originali. Oggi ho scritto un pezzo su questa incredibile cosa che è avvenuta a Norcia, che è una specie di racconto di quello che può avvenire in Italia. E tra l'altro i magistrati si arrabbiano pure con quelli che criticano il loro comportamento riguardo al sequestro e l'avviso di garanzia al sindaco Alemanno e Boeri di Norcia. Vabbè, ma lo trovate sul mio sito nicolaporro.it se siete interessati. La cosa che mi interessa in questo momento è raccontarvi ovviamente quello che c'è sui giornali. Allora, la sfida oggi come titolo, mi sembra il Corriere della Sera, è per le Camere. Chi farà il Presidente della Camera è del Senato. Abbiamo lasciato perdere quello che interessa davvero i cittadini, vi ricordate? Ma chi se ne frega della legge elettorale, chi se ne frega delle Camere? Siamo di nuovo ripiombati in un mondo che è quello della politica. Per cui la Presidenza della Camera, che vuol dire assistenti, che vuol dire ruolo, che vuol dire agenda, che vuol dire macchine di scorta, che vuol dire futuro. Beh, insomma, adesso tutti quanti sono là che battagliano per le Camere come se fossero dei democristiani della Prima Repubblica. Regge, dice il Corriere della Sera, l'asse di Maio Salvini. Cioè, uno si prende il Senato e l'altro si prende la Camera. Ma chi prende cosa? Beh, oggi in pole position per il Senato, scusatemi, per il Senato, sì, 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 per il Senato è un giornalista che si chiama, non so se per il Senato, è per la Camera, Emilio Carelli, che io conosco bene, perché ha lavorato a Mediaset, ha lavorato a Sky, in un suo ritratto molto divertente fatto oggi dal giornalista del Foglio, Peppino Sottile, che diceva, erano i 5 Stelle quelli che odiavano i giornalisti, io mi ricorderò sempre come ci trattavano noi, come delle merde Beppe Grillo. Cosa vuol fare dei giornalisti? Li vuole mangiare per poi vomitare. Questo disse non più tardi di sei mesi fa, non mi sembra contestato da nessuno Beppe Grillo. Il motivo per il quale a me fa schifo, nel senso che ce l'ha con me, e quindi se lui ce l'ha con me, posso anche dire che non ho simpatia nei confronti di qualcuno che mi vuole mangiare e poi vomitare. Evidentemente non vuole mangiare e vomitare Carelli, questa è l'attendibilità di Grillo, perché lo vuole diventare presidente, lo vuole far diventare lui e Di Maio presidente di una delle Camere più importanti. Benissimo, ma a me sembra una scelta azzeccatissima, nel senso non lo dico con ironia, è uno che va d'accordo con Berlusconi, che va d'accordo con la Lega, va d'accordo con Movimento 5 Stelle, ex di G5 come avete scritto, insomma mi sembra che sia una di quelle persone che potrebbe mettere d'accordo tutti ed essere tutela di tutti quanti. Molto più preoccupato è della scelta di Salvini, almeno per quanto mi riguarda, perché Salvini, oggi ce ne sono alcuni ritratti sui giornali, sapete chi vorrebbe presidente della Camera? Vorrebbe la signora Buongiorno, cioè il peggio del peggio che voi possiate immaginare, quella che era prima con Berlusconi, poi con Fini, scusate, prima con Andreotti, poi con Fini, poi con Salvini. Insomma, questa è la candidata alla presidenza di una delle due più importanti ruoli istituzionali di questo paese. Che cosa ha fatto nella vita? Niente, una telefonata isterica quando Andreotti è stato assolto, peraltro assolto in maniera, come ben sapete, in funzione del tempo. Posto che poi ovviamente non ha fatto nulla lei, ma ha fatto sì la segreteria, ma il vero difensore di Andreotti fu, come si chiama, Coppi, uomo che mi sembra che riesca a difendere bene anche Berlusconi. Ma comunque questa signora riesca a diventare presidente della Camera, quella che ci spiegava a noi del giornale, querelandoci mille volte, che Fini era oggetto di una campagna di fango per la casa di Monte Carlo. Mi sembra che già una che con Fini lo ha difeso sulla campagna di Monte Carlo, ma non come avvocato, ma come politico, beh, forse insomma avere lei come rappresentante del centrodestra, presidente di una delle massime istituzioni di questo paese, io mi auguro, mi auguro che non si arrivi. Molto peggio, tra l'altro nelle ipocrisie, nei suoi luoghi comuni, nella scarsa attendibilità di quello che dice, di quello che oggi abbiamo con la Boldrini. E chiunque di voi non ci creda si fidi, vedrà che cosa succede con una buongiorno che mi auguro non verrà mai presidente di una delle Camere. Martina dice oggi un'intervista alla Repubblica, la grande intervista politica di oggi è del segretario del PD, che dice alla Repubblica, escludo qualsiasi accordo con il Movimento 5 Stelle, vogliamo stare all'opposizione. Voglio vedere quanto sarà forte in duratura questa posizione del Movimento di Martina del segreteria del PD, anche perché fino a prova contraria si tratta di un reggente e non del segretario del PD, e soltanto un po' di giorni fa, proprio sul Corriere della Sera, ho letto Franceschini che diceva voglio il governo di tutti. Come fa quindi il segretario reggente che regge un partito che non l'ha eletto a parlare per tutto il partito? Boh! Però dice voglio andare all'opposizione e staremo all'opposizione. Questo mi sembra che sia quanto ci regala la politica, si fa per dire oggi, se non in un'intervista all'intervista al presidente della Confindustria Boccia, fatta da Claudio Cerasa sul foglio, in cui dice non bisogna toccare il deficit, il Jobs Act, le infrastrutture, le pensioni. Insomma oggi mi sembra che sia un passo indietro rispetto alla sua scarsità di paura nei confronti del Movimento 5 Stelle. Sono tutti temi che il Movimento 5 Stelle e in parte la Lega, anzi anche il centro-destra, vogliono toccare. L'altro grande tema di oggi, ma cercati un lavoro vero, dice Angelo, qui non sono pagato, quindi non è un grande lavoro. L'altra cosa che oggi è su tutti i giornali è tutti contro Putin per la questione della spia che è stata uccisa, probabilmente con il Nasrnino, vicino Londra. Alleanza 4 contro Mosca, Gran Bretagna, Francia, Germania e chi altro c'è? Francia, Germania e comunque l'Italia non è nei 4. Anche Trump oggi sembra, anche se in modo riluttante come dicono i giornali, il Corriere della Sera lo fa capire bene verso le sanzioni, ma in realtà non nei confronti della Russia, ma nei confronti di alcuni russi che facevano attività, diciamo, poco chiare e trasparenti su internet. Ma il pezzo che vi consiglio è l'intervista straordinaria a Nicola Limonov, no, non si chiama Nicola, comunque Limonov, fatta da Franceschino, da Battistini sul Corriere della Sera, pagina 3, che giustifica il fatto che il Corriere ci apra. Limonov, ovviamente molti di voi, se non l'hanno fatto, fatelo, è un personaggio straordinario ed è stato celebrato in una incredibile biografia che gli ha dedicato Carrere. È una biografia di un uomo incredibile che ha avuto gusti sessuali, perversioni, comunista, fascista, un po' nazista, gay, non gay, prostituto, gigolò. È un uomo incredibile, ma molto serio, molto tenuto in considerazione, un filo russo fino in fondo al midollo. Il russo, insomma, raccontato, sembra uscito da un libro di Dostoievski, piuttosto che da quello di Carrere, che lo descrive invece come se fosse un personaggio di Dostoievski. Comunque, nella sua intervista di oggi dice una cosa sola, ma figuratevi un po' voi se Putin, che è una persona intelligente, va a uccidere una spia che non contava più nulla, era 14 anni che stava in Inghilterra e insegnava ai ragazzini delle scuole russe la storia dello spioraggio, ma perché doveva compromettersi a fare un'operazione di questo tipo? Quindi, fantastico, Edward Limonov, scusami Francesco, hai ragione, non Nicolai, non so perché lo confundevo con il mio ospite di ieri in televisione, che era Nicolai I... Vabbè, insomma, oggi con i nomi mi sono messo malissimo, come spesso accade. Comunque sia, non so se è una specie di annunzio, Dario, ma può essere una bella definizione. Un annunzio russo più che italiano. Beh, insomma, vi consiglio di leggere questa cosa qua e l'altra cosa che racconta è la Russia, ragazzi, non la comanda Putin, che è il portavoce in realtà di una trentina di famiglie che governano la Russia in maniera, diciamo, assoluta, di cui Putin è soltanto il portavoce. Beh, insomma, vi dico di leggere l'intervista perché, come sempre diverso, bello Magris oggi che per la prima volta celebra come si deve, non sentendo coloro che hanno ammazzato Moro, ma ricordando cinque persone che sono state brutalmente uccise e per le quali non si poteva trattare, non fosse altro perché si sarebbe dovuto trattare con dei vigliacchi macellai che sono quelli che hanno ammazzato i cinque uomini della scorta. Giurlo oggi ci racconta invece un'altra storia incredibile che riguarda la Presidente della Commissione Giustizia della Camera, che si chiama Doratella Ferranti, che proprio io mi ricordo ci fu uno scandalo nel 2013 perché fu l'ANM, cioè l'Associazione Nazionale dei Magistrati, il loro sindacato che pretese ottenne che il Presidente della Commissione Giustizia della Camera fosse un suo magistrato, ebbene non viene più rieletta nel PD, non viene più ricandidata nel PD e sapete che cosa succede? La Ferranti passa direttamente da parlamentare, Presidente della Commissione, a giudice di Cassazione, ci ricorda oggi Zurlo, ma anche il fatto, mi sembra Barbaceto, immediatamente giudice di Cassazione, vi rendete conto? Giudice di Cassazione senza, ricordano i due articolisti, aver mai scritto una sentenza, va bene? E senza neanche aver fatto il concorso che sono tenuti a fare tutti gli altri magistrati che vogliono entrare sulla Suprema Corte. Insomma, una cosa incredibile, anche perché questa signora dal 98 ha smesso di fare il magistrato, prima è andata al CSM, ha fatto il vice segretario del CSM, il segretario generale del CSM, poi è diventata parlamentare nel 2008 e poi ancora nel 2013. Insomma, sono vent'anni che non fa il magistrato ed è stato accatapultato quando ha perso il lavoro e esattamente a fare il giudice supremo. Insomma, è una cosa abbastanza incredibile. Ingroia è indagato per peculato, sì, quella è una notizia di questa mattina che non è sui giornali, qualcuno di voi me lo ricorda. Federico dice intervenga il Presidente della Repubblica sulla Ferranti, non so quanto possa intervenire, anche se effettivamente presidendo il CSM ne dovrebbe avere qualche cosa da dire. Nuove regole della Banca Centrale Europea sui crediti deteriorati, è il titolo del Sole 24 Ore, mettetelo da parte. Il pezzo migliore di oggi sui crediti non deteriorati è fatto da De Paolini sul Messaggero, non è il fondo, è un pezzo del Messaggero in cui De Paolini ci spiega che è successo. E' successo una cosa semplice, che in parte l'Italia effettivamente ha vinto, cioè è riuscita a non farsi fottere, ma se tu non vieni ucciso, non è che hai vinto, hai sventato un rischio. Peraltro, dice De Paolini, in questa norma che è stata fatta a livello europeo, grazie a Tajani che si è opposto, e al Parlamento europeo che si è opposto a questa ingerenza da parte dei burocrati per fare leggi che non aspettano loro ma aspettano appunto al Parlamento europeo, beh, dice però la vigilanza salva le banche, non le imprese, nel senso, e questo è il titolo del pezzo, nel senso, dice De Paolini, bisogna sempre stare molto attenti quando si parla di vigilanza sulle banche perché rendendole molto vigilate, molto normate, con troppo patrimonio, si rischia poi che queste banche, per non sbagliare, ve la faccio semplice, non prestino più soldi alle imprese. Direi che per oggi è tutto, se volete trovate tanto altro sulla sito nicolaporro.it, questa sera c'è Matrix, non ve lo dimenticate, e se vi è piaciuta questa zuppa condividetela, e ciao a tutti, buongiorno a tutti, Ugo, Anna, buona la zuppa come sempre, forza Nicola, mi scrive Maric, spero Maric, Lamens, speriamo di non aver sbagliato la pronuncia, e niente, ci vediamo questa sera anche con Sissi, ciao!